È stato approvato il quadro normativo a cui avevamo tanto lavorato negli anni precedenti e ringrazio di cuore la presenza qui di Livia Turco e del lavoro prezioso che ha fatto guidando quella commissione. Mancano però le risorse e se non si mettono le risorse e ad ora questo governo non ha messo un euro questo vuol dire non riuscire a migliorare i servizi per le persone non autosufficienti. Dare le risposte che servono vuol dire lasciare questa importante riforma ferma e noi non vogliamo che sia ferma, vogliamo che viva, che viva nel Paese e riaccenda la speranza. Di poter non solo vedere allungare la vita ma migliorare la qualità della vita che si allunga. Questa è la grande questione. Tocca anche il tema della prevenzione su cui è entrata prima Marina Sereni. Io credo questo e poi chiudo perché siamo qui per ascoltare voi. Credo che in questa manovra dovremmo batterci anche perché ci siano adeguate risorse sulla non autosufficienza perché non si abbandoni quella gamba, quella terza che prima ricordavi Marina che è fondamentale perché i bisogni dei caregiver non sono gli stessi delle persone di cui si prendono cura. Vuol dire avere adeguate risposte in termini di sollievo? Vuol dire avere adeguata formazione, facilitazione nell'accesso ai servizi? Spesso vivono lunghe trafile burocratiche sulla propria pelle. Vuol dire tutta una serie di risposte che guardano al loro ruolo e contributo fondamentale in ottica del tipo di supporto che danno alle persone che assistono le famiglie. La legge nazionale sui caregiver è necessaria, ringrazio anche naturalmente Marco Furforo, Paolo Ciani ci stanno lavorando ma soprattutto le associazioni nazionali che stanno lavorando in questo, anche l'associazione nazionale di caregiver sta lavorando molto bene con stimoli per noi importanti da raccogliere in questa direzione.